Oggi c'è una nuova tappa di questo scambio culturale tra Italia ed Iran che coinvolge anche l'Abruzzo, terra che ha delle similitudini anche con l'Iran. Vogliamo chiedere qual è l'importanza di questa iniziativa proprio per il paese iraniano? Quello che è importante è che la civiltà iraniana come la civiltà della Roma hanno avuto un ruolo molto importante nella costituzione della civiltà dell'uomo. Con la loro storia e con la loro cultura. Quello che per noi è importante per questa iniziativa è far conoscere la cultura e la civiltà iraniana al popolo italiano, in particolare ad Abruzzo, perché già c'è un rapporto ottimo dal punto di vista economico e anche politico tra due paesi. Però bisogna lavorare ancora sulla sezione del turismo. Sappiamo che la cultura e la storia dell'antica Persia è ormai conosciuta a tutti. Sanno tutti e tutto il mondo, conoscono bene la storia e la cultura e la civiltà persiana. Quello che è importante è far conoscere l'Iran oggi, l'Iran attuale. Un'iniziativa però importante anche sotto l'aspetto commerciale. Sicuramente è così. Quando aumenta la conoscenza reciproca, la conoscenza del popolo italiano, la cultura e la civiltà persiana, incentiva anche le relazioni economiche e commerciali tra due paesi. Sanno che dove vanno a investire le imprese.